Dopo la riapertura del caso di Manuel Pireda arrivano le reazioni dell'avvocato di Valentina Fizzalis e di una deputata che annuncia l'interrogazione parlamentare. Eversense è il nome del dispositivo tecnologico impiantato a un paziente di Iglesias affetto da diabete. Il consiglio delle autonomie locali della Sardegna ha bocciato la riforma del riordino dei servizi ospedalieri. Inizia oggi Iglesias la manifestazione Arrivederci Estate organizzata per salutare la stagione estiva. Buon sabato 2 settembre a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro Tg. Apriamo la prima parte parlando della vicenda inerente alla riapertura del caso giudiziario sulla morte di Manuel Pireda. Dopo la riapertura del caso non si sono fatte attendere le reazioni delegare della famiglia di Valentina Fizzalis e anche quelle di una parlamentare che ha annunciato un'interrogazione al Ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando. Vediamo i dettagli nel servizio. Dopo la notizia per molti versi inaspettata della riapertura del caso giudiziario inerente la morte di Manuel Pireda e l'apertura di un fascicolo dove si indaga per omicidio della giornata di ieri è arrivata la replica di Valentina Fizzalis che si è mostrata sconcertata e stupita per aver appreso della notizia dei media e non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito. Così come il suo avvocato Adriano Onorato che ritiene la decisione della procura di Cagliari un atto dovuto giunto in seguito a un esposto della famiglia Pireda dopo che precedenti esposti erano già stati rigettati. Per il legale l'unico obiettivo della famiglia Pireda sarebbe quello di voler diffamare Valentina Fizzalis per riscattare così la figura dello scomparso Manuel. D'altro avviso l'avvocato Solai che ha presentato l'esposto e che chiede di fare piena luce nella vicenda. Nel frattempo è intervenuta sul caso la deputata di Forza Italia Gabriella Giamanco che ha annunciato di voler presentare un'interpellanza al ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando per verificare le motivazioni per cui si starebbe continuando in quella che la parlamentare ha definito una vera e propria persecuzione nei confronti della Pizzalis, vittima di tentato femminicidio. Si chiama Eversense, il dispositivo rivoluzionario impiantato sotto cute a un paziente affetto da diabete a Iglesias per monitorare costantemente la glicemia. Vediamo. Eversense è il nome del dispositivo tecnologico che è stato impiantato sotto la cute del braccio di un paziente affetto da diabete a Iglesias per il monitoraggio costante dei valori di glicemia. Il futuristico dispositivo permetterà di verificare in tempo reale i valori glicemici e di avvisare preventivamente il paziente in caso di aumento degli stessi tramite una notifica, ma anche di stabilire in forte anticipo il rischio o l'eventualità di una crisi ipoglicemica. Un'innovazione tecnologica importante che, come ha ricordato Riccardo Trentin, presidente dell'associazione Diabete Onlus Iglesias Carbonia, aiuterà a migliorare la qualità della vita per coloro che sono affetti da questa patologia e che da oggi avranno maggiore facilità nel pianificare le proprie attività quotidiane. Anche in questo caso, come in altri analoghi, nei più svariati settori e non solo in quello medico, l'evoluzione della tecnologia sta facendo passi da gigante e sta letteralmente cambiando in meglio la vita delle persone, permettendo obiettivi che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili. Chiudiamo la prima parte parlando della bocciatura del Consiglio delle Autonomie Locali della riforma di riordino dei servizi ospedalieri regionali. Vediamo. Il Consiglio delle Autonomie Locali, nella giornata di ieri, ha espresso parere negativo in merito alla riforma di riordino della rete ospedaliera regionale. Tale decisione è arrivata dopo una fita consultazione e un ampio dibattito nei quali sono emerse tutte le criticità di tale riforma, tra cui, in particolare, quella di dare maggiore spazio alla questione prettamente economica della sanità e meno a quella della qualità e della diffusione dei servizi ospedalieri. Il CAL, pur riconoscendo la necessità di intervenire sul sistema sanità della Sardegna, chiede, tramite il proprio presidente, il sindaco di Nuoro, Andrea Sodu, una rivisitazione degli interventi adeguandoli alle reali peculiarità demografiche dei territori. Presa di posizione che non è piaciuta all'assessore regionale alla sanità Luigi Arru, che ha manifestato dispiacere, ma anche la volontà ferma di voler procedere con quella che è ritenuta dall'amministrazione regionale come un'opportunità importante di cambiamento e miglioramento del sistema sanitario della Sardegna. Ben tornati in studio, apriamo la seconda parte parlando della presa di posizione dell'Udc in merito alla legge che permetterà l'apertura dei cantieri nei comuni della Sardegna. Vediamo. Il capogruppo dell'Udc in consiglio regionale, Gianluigi Rubio, è intervenuto con una nota per sollecitare l'amministrazione regionale a intervenire presso gli enti locali per fare in modo che la legge pubblicata il 12 agosto scorso in gazzetta ufficiale per lo sblocco dei cantieri comunali in Sardegna sia immediatamente applicabile. Secondo l'esponente centrista, da oggi in poi i comuni potranno riprendere ad assumere per far fronte ad alcune criticità quali la prevenzione degli incendi, il dissesto idrogeologico e il contenimento delle discariche abusive. E grazie a questo provvedimento legislativo non ci saranno più vincoli con il rischio di infrazione del patto di stabilità interno. È necessario quindi, ha ribadito Rubio, che la regione sia attivi per facilitare le procedure informatiche e burocratiche in maniera tale che i comuni siano messi nelle condizioni di predisporre i bandi in termini brevissimi. E adesso parliamo del convegno che si è tenuto ieri sera alla grande miniera di Serbariu a Carbonia sulla vinificazione e la degustazione sensoriale delle uve. Vediamo. Siamo in compagnia di Leloboi, segretario della confraternità iglesiente del vino. Oggi avete organizzato questo importante convegno sulla degustazione sensoriale delle uve. Di che cosa si tratta e qual è la finalità? Allora, questa è una manifestazione, è un convegno che teniamo di solito ogni anno e coincide con la vendemmia. In particolar modo è un convegno di preparazione alla vendemmia per ottenere un buon prodotto. Si parte da una valutazione sensoriale delle uve, dopodiché si passa a esaminare tutte le problematiche che si incontrano dovute anche alle temperature, al tipo di maturazione dell'uva e in base a questi concetti si prepara una buona vendemmia e quindi un buon vino. La degustazione sensoriale, come ha spiegato l'enologo esperto che è intervenuto durante il convegno, viene utilizzata anche in altre nazioni per garantire poi la realizzazione di vini di grande qualità. Sì, questo è un metodo molto pratico perché non si va nei laboratori di analisi, ma è un metodo che si fa direttamente sul campo, sulle vigne e consiste appunto nel prelievo di acini un po' dappertutto nella vigna che vengono esaminati sensorialmente, cioè nel loro aspetto, all'interno anche dell'acino si esamina la polpa, dopodiché si esamina anche la buccia e i vinaccioli. In base a questa valutazione si è poi in grado di capire se l'uva è matura oppure meno e quindi in base a questo si procede ad una vendemmia oppure si aspetta che la maturazione sia avvenuta. Chiudiamo la scuola parte del nostro TC parlando dell'importante assemblea organizzata per il 12 settembre da parte dell'amministrazione comunale di Carbonia alla quale parteciperanno tutti i rappresentanti dello sport cittadino. Vediamo. L'amministrazione comunale di Carbonia ha convocato per martedì 12 settembre alle ore 17.30 nella sala polifunzionale del comune l'assemblea del mondo sportivo carboniense. Nell'incontro con tutte le società sportive interessate si affronteranno gli argomenti della costituzione della consulta comunale per lo sport. Il bandi di affidamento in gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica è la situazione degli impianti in città. Presenzierà l'assemblea l'assessore allo sport Valerio Piria che vista l'importanza dei temi trattati invita tutti gli interessati a partecipare in modo massiccio. Bentornati in studio, apriamo la terza parte parlando della mostra A Banda, fotografie in Sardegna in corso di svolgimento a Carbonia. Vediamo le immagini e le interviste che abbiamo realizzato ieri sera. Siamo in compagnia di Giorgio Rocci, organizzatore di questa mostra dal titolo A Banda una mostra fotografica che racchiude le opere di diversi artisti qui al circolo dei soci dell'Ovalcop in piazza Marmilla a Carbonia. Buongiorno, sono uno dei fotografi della mostra sui miti, le leggende e i ritti della Sardegna. Noi abbiamo partecipato ormai al quarto anno che partecipiamo al progetto A Banda dei Subalatu Fotografia di Salvatore Illigios. Quest'anno noi abbiamo voluto mirare appunto sui miti della Sardegna. Siamo cinque fotografi, soci della fabbrica artigiana di fotografia di Carbonia. Abbiamo presentato cinque lavori diversi, sempre però sui miti e sui ritti della Sardegna. I lavori, ciascuno di noi ha presentato cinque fotografie, facendo un discorso su alcuni ritti e sui miti. Abbiamo dei fotografi di Iglesias, un fotografo di Iglesias che ha fatto un lavoro sulla Settimana Santa. Sono cinque foto che appunto descrivono la Settimana Santa. Poi c'è il mio lavoro, che è un lavoro su Sacca Badora. Sono anche in questo caso cinque foto che raccontano in molta sintesi la figura della Sacca Badora. Un lavoro invece di Tuveri, che si chiama Feminus, che descrive attraverso il mito in effetti la figura della donna Sardegna. Un altro lavoro di Claudia Lucci, che invece parla attraverso i volti di persone della nostra epoca, mostra sempre delle figure mitologiche. L'ultimo lavoro invece è di Rosas. Il suo è quasi un lavoro cinematografico, posso spostare. Perché sono quasi sequenze cinematografiche, quello che lui fa vedere. Per quanto sarà fruibile la mostra? È fruibile al pubblico fino al 15 di settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20 e 30. E adesso parliamo di un'altra mostra, stavolta di caricature, disegni e opere artigianali dell'artista Maurizio Lai in corso in questi giorni a Sant'Antioco. Vediamo. Si tiene in questi giorni a Sant'Antioco la mostra esclusiva del disegnatore vignettista Maurizio Lai, dal titolo Natto con la matita. Le opere del conosciuto artista resteranno esposte nella sala mostre del palazzo del capitolo della piazza De Gasperi fino al 13 settembre e saranno fruibili ogni giorno dal pubblico dalle ore 20 e 30 in poi. Maurizio Lai, classe 1968, da molti anni espone le sue opere nel territorio, riscuotendo successo per il suo stile inconfondibile e per la forte carica espressiva che riesce a trasmettere nelle sue creazioni che svariano dai quadri alle vignette, alle caricature e alle pregevoli opere artigianali. Creazioni che parlano delle persone, dei luoghi e della vita di tutti i giorni e che rappresentano uno scorcio della nostra società. In chiusura parliamo della manifestazione Arrivederci Estate, prevista per questa sera a Iglesias. Vediamo. Questa sera Iglesias ospiterà la manifestazione Arrivederci Estate, organizzata dall'associazione Nuova Via per chiudere la stagione estiva che nel comune iglesiente anche quest'anno ha saputo regalare intensi momenti di cultura e intrattenimento. L'evento prenderà il via alle ore 18 in piazza Sella con i giochi per i più piccoli e il laboratorio di arti sceniche gestito dalla truccatrice, teatrale e scenografa Cristina Ochedu e continuerà la sera dalle ore 19 con diverse esibizioni di artisti di strada che attraverseranno tutto il centro storico. Dalle 20.30 dopo lo spettacolo circense curato dal circolo Zamuner prenderà forma il DJ Seth Mudra e la mostra estemporanea dell'artista Giovanni Joshua Diana. Un modo degno hanno affermato gli organizzatori di chiudere la stagione estiva all'insegna del divertimento per i più piccoli ma anche per i più grandi. Il nostro TG è concluso, a seguire andrà Noasa Incursu a cura di Guido Cadoni grazie di averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.